Contro la crisi dell'automotive, l'alleanza Nissan-Renault annuncia il nuovo modello di sviluppo, una strategia che prevede che ogni casa sarà leader in una singola tecnologia e nelle diverse aree geografiche. Il modello, che passa sotto il nome di Leader Follower, intende migliorare efficienza e competitività sui prodotti e sulle tecnologie. Tutti i veicoli saranno prodotti secondo la configurazione più competitiva, inclusa la produzione, rispetto alle nostre attuali prestazioni. Questo schema ridurrà del 40% i nostri investimenti. Per fare un esempio, in determinati casi e regioni geografiche, lo sviluppo della guida autonoma andrà a Nissan, la connettività delle auto a Renault. Il nuovo modello di sviluppo porterebbe il gruppo a un risparmio di 2 miliardi di euro entro il 2024. Il diavolo si nasconde nei dettagli, però è la paura dei dipendenti della Nissan di Barcellona e che il piano si traduca nella chiusura e in licenziamento. Potrebbe tradursi in 25.000 famiglie che finiscono in strada. Questo è quello che leggiamo e questo è quello che vogliamo che tutti sappiano. In Francia, nel tentativo di evitare prossime chiusure, i produttori francesi sono impegnati ad aumentare la produzione francese in Francia, quindi di auto elettriche ibride.